Solo qualche giorno fa si era tenuta la discutissima conferenza stampa dell'ex presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, dopo il commissariamento dell'ente che ha sede a Piazza Bovio. Fiola, insieme ai suoi legali, Giuseppe Stellato e Antonio Parisi, aveva illustrato i dettagli delle iniziative legali intraprese nei confronti del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Presentato da ICAST, Napoli, associazione presieduta da Fiola, un esposto nei confronti del presidente che avrebbe messo in atto in modo illegittimo il commissariamento della Camera di Commercio, mentre a guidarla era proprio Ciro Fiola. La regione ha annunciato a metà aprile il commissariamento della Camera di Commercio dopo il non riconoscimento dei seggi a seguito della competizione elettorale andata in scena il 27 marzo. Il governatore De Luca nomina la dottoressa Maria Salerno come commissario straordinario dei corsi 60 giorni inizialmente previsti per la sua carica. Il 20 luglio subentra il prefetto Raffaele Cannizzaro, che proprio in queste ore ha incontrato gli organi di stampa. Vi è la necessità e l'urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'ente e portare a compimento le procedure di rinnovo dell'organo camerale, ponendo in essere il rinnovo del Consiglio. È quanto si legge nella nota della nomina di Cannizzaro firmata dal presidente De Luca, ma ascoltiamo il nuovo commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli. L'obiettivo di qualsiasi incarico commissariale è quello di uno gestire e nella migliore maniera possibile l'ente che si viene ad amministrare. L'altro obiettivo, come sempre, è quello di cercare di dirimere tutte le eventuali questioni più spinuse. È evidente che le complessità rimangono e le complessità della Camera di Commercio, che si ha negli ultimi anni sempre più arricchita di competenze e funzioni anche delegate, che possa dare il proprio contributo perché questa attuale fase possa continuare ulteriormente a svilupparsi.